Prima che tu parli, persiano, sappi che a Sparta ogni uomo, fin anche il messaggero di un re, risponde personalmente delle parole che pronuncia. Dunque, quale messaggio ci porti? Terra e acqua. Tu sei venuto fin qua dalla Persia per terra e acqua. Non essere riservato né stupido, persiano, non puoi permettertelo a Sparta. Perché questa donna osa parlare tra gli uomini? Perché solo le donne spartane partoriscono uomini veri. È meglio camminare, raffredderemo le nostre lingue. Se la vita del tuo popolo vale di più della tua totale di Sparta, ascoltami bene, Leondra. Cerse conquista e controlla tutto quello su cui il suo sguardo si posa. La sua armata è tanto imponente da far tremare la terra al suo passaggio, tanto vasta che per abbeverarsi prosciuga i fiumi. Tutto ciò che il Cerse e il Dio re richiede è questo, una semplice offerta di terra e acqua. Un segno della sottomissione di Sparta al volere di Cerse. Sottomissione. Questo può essere un problema. Vedi, si mormora che gli Ateniesi si siano già rifiutati. E se quei filosofi, se quegli effeminati hanno trovato tanto coraggio... Dobbiamo essere diplomatici. E ovviamente gli Spartani hanno una reputazione da difendere. Scegli le tue prossime parole con attenzione, Leonida. Potrebbero essere le tue ultime, Dare. Scegli le tue ultime, e che partenze. Scegli le tue ultime, E' acqua. E' acqua. Tu sei pazzo! Pazzo! Terra e acqua Oh, ne troverai in grande abbondanza laggiù Nessuno, né persiano né greco minaccia un messaggero Tu porti le corone e le teste dei re sconfitti Fin sulla soglia della mia Sparta Tu insulti la mia regina Tu minacci il mio popolo di schiavitù e morte Oh, ho scelto le mie parole con attenzione, persiano Forse avresti dovuto fare lo stesso Questa è blasfemia! Questa è pazzia! Pazzia? Questa è Sparta! Questa è la sua? Grazie a tutti.